Nella sede di Fondazione Cattolica è stata presentata la prima edizione del Legnago Lavoro Festival. Si svolgerà nel grande centro della bassa veronese dal 6 all'8 marzo. Sarà distribuito su tre giorni e quattro luoghi diversi, mettere insieme soggetti coinvolti a vario titolo nel mondo del lavoro per parlare di dignità. Inaugurazione è venerdì 6 marzo alle 9 al Teatro Salus in un incontro con gli studenti degli istituti superiori e la sera ci sarà un incontro tra operatori del mondo del lavoro per parlare di dignità dei lavoratori. Il primo obiettivo a medio termine evidentemente è parlare della dignità del lavoro e celebrare un festival coinvolgendo il maggior numero di persone che sono addetti all'ambiente sociale, economico, lavorativo o che lavorano studenti in procinto di entrare nel mondo del lavoro. Ma il nostro obiettivo vero è quello di costituire una rete di persone, di banche, di imprenditori, di lavoratori dipendenti, la scuola, la sanità, le agenzie interinali, tutti i sindacati, tutti coloro che lavorano, che hanno interesse o che operano nel settore del lavoro, l'agricoltura, l'artigianato, mettere insieme per fare causa comune. Sabato mattina all'edificio 13 ci saranno due workshop con studenti e non solo dove si parlerà delle normative e dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro dovuto in particolare alla sua digitalizzazione. Tutto questo per fare chiarezza sull'attualità e le prospettive future dei lavoratori sulla cui dignità in quanto esseri umani non si può prescindere. Il lavoratore è un uomo prima di tutto e con tutte le sue aspettative spirituali, religiose, umane, progettuali di vita e quindi il lavoratore deve essere considerato nella sua globalità, non come strumento finalizzato a una resa economica. A sposare l'evento fin da subito è stata Fondazione Cattolica che ha voluto la sua presentazione in città a Verona proprio per incentivare la diffusione di questa iniziativa oltre il territorio legnaghese. C'è la convergenza di tante persone, non tutte cattoliche, non necessariamente cattoliche, ma hanno un obiettivo comune, parlare di una cosa che sta a cuore alla città, che sta a cuore alla gente e allora credo che sia bello ospitarlo qua proprio il giorno in cui vengono celebrati i funerali del grande ideatore di questo metodo che è il metodo che include e non esclude, che tira fuori il meglio da ogni persona e lo mette insieme per costruire qualcosa di bello, di buono e di utile a tutti.